La Vergine Immacolata ha una capacità straordinaria, ha la capacità di far sorridere tutti. Il giorno dell'Immacolata è il giorno felice per tutti a salire, è il giorno gioioso per tutti. Ciascuno porta nel suo cuore le fatiche, ciascuno le pone ai piedi della Vergine delle ansie, delle preoccupazioni, ciascuno porta nella calma il vicissimo dei dolori, ma davanti alla madre tutti sorridono. Il giorno dell'Immacolata è il giorno del sorriso, il giorno nel quale salemi sorride. Non potremmo chiedere di più a questa madre, se non aprire le nostre lacrame a sorridere, riuscire ad incontrare il cuore le fatiche sorridere. Ci chiamo alle menti dell'Immacolata, madre nostra, madre di ogni salemità, che lei è devutissimo di custodire questo sorriso che in questo momento allureggia sulle nostre lacrame, che ci dia lei, la sua bellezza all'interno, con la sua cultura, la capacità sempre di sorridere, di percorrere le vie della nostra cittadina sorridere, portando il sorriso in ogni caso, nelle nostre case, nelle case degli altri. Di tante cose ha bisogno di salemità, di tante cose hanno bisogno di salemità, ma soprattutto hanno bisogno di riscoprire il gusto di un bel sorriso. Ringraziamo la Vergine Immacolata che ci ha consentito oggi di sorridere. incloniamola, preghiamola, perché custodisca in noi la gioia di questo momento. Viva l'Immacolata! Viva! Viva! Viva l'Immacolata! Viva! Viva l'Immacolata! Viva! 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 Viva!